canta natale un'iniziativa su padova il domenica 22 dicembre appuntamento in prato la valle alle nove poi da là si camminerà tutti insieme un corteo festoso verso pediatria di padova è circa un chilometro che cos'è il canta natale canta natale è una manifestazione libera gratuita aperta a tutti non ci sono biglietti non ci sono iscrizioni non c'è bisogno di tesserarsi a niente chi vuole viene si va a cantare per i bambini di pediatria in modo simbolico due giorni prima di natale in modo simbolico perché l'ospedale di pediatria è vero che ospita dei bambini che stanno facendo il loro percorso di guarigione ma anche vero che rappresenta il nostro futuro i bambini sono il nostro futuro pediatria è un eccellente reparto di padova di cui siamo tutti orgogliosi e noi vogliamo cantare per i bambini a natale perché i bambini sono quello che siamo stati sono quello che siamo ancora la canzone più importante che canteremo davanti a pediatria è felice navidad in una versione italiana come è nata questa idea volevamo fare qualche cosa che rappresentasse il canta natale di padova con una canzone una delle canzoni che canteremo abbiamo scelto una canzone famosissima fris navidad è una canzone spagnola italiana molto molto celebre tutto il mondo abbiamo fatto un testo in italiano abbiamo coinvolto tutti i maggiori artisti del nostro territorio chiedendo a tutti se avessero voluto cantare un pezzetto di canzone abbiamo avuto una risposta veramente massiccia tutti ci hanno detto di sì tutti sono venuti e quindi abbiamo dei bellissimi nomi per questo video che sta avendo un grande successo ha già superato le 300 mila visualizzazioni ma credo che crescerà ancora fino a natale un video diventato un po' un video tutorial no tutti noi cantiamo felice navidad ed è un po' la canzone che canteremo davanti all'ospedale senza la musica solo voci felice navidad felice navidad felice navidad felice navidad felice navidad sempre più grande il tuo cuore sarà Canta Natale per tutto il mondo, dono della mia città Canta Natale per tutto il mondo, dono della mia città Canta Natale è una manifestazione totalmente gratuita, abbiamo degli amici che ci hanno sostenuto e che io voglio ringraziare, abbiamo il comune di Padova che ci è vicino, la regione Veneto, la provincia di Padova Insomma quindi è una manifestazione che sta diventando importante ma soprattutto quello che sarà importante è avere voi, avere te insieme a tutti noi quella mattina 22 dicembre Prato alla Valle ore 9, ospedale alle 10, 10 e mezza per cantare insieme le canzoni Natale Quindi ti aspetto domenica 22 dicembre Canta Natale Grazie Grazie